sa che ti sei messa contro luce e non ti si vede perché c'è la luce che sparano e invece io ti prendo di qua non si vede mai che va bene e si vedete invece che vale molto di più la pena ok dunque dovremmo parlare di scooter non è che stiamo qui a parlare di glottologia no no siamo veloci perché c'è da fare innanzitutto io mi tolgo perché preferisco vedere te e le moto giusto ma che roba vai hai illuminato lo schermo mamma mia che uomo fortunato che è rosso allora promozioni parliamo però c'è un negozio pieno devi andare a lavorare tu tu muoviti adesso arriva il corriere muoviti 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 allora vespa vieni qua muoviti dai che seguo io sai che io trovo un altro eh lo so non ho dubbi non ho dubbi che mi scaricate con una calza vecchia succede spesso che mi scaricano ne vogliono ascoltami allora vespa su tutta la gamma praticamente questo mese che ricordo il mese di maggio 2024 ok ok c'è l'immatricolazione inclusa nel prezzo quindi uno sconto promozionale di 300 euro questo qua la barbara risponde al telefono e va bene ragazzi state lavorando questo vuol dire che è in promozione sia tutta la serie 300 che sappiamo tutte le sue varie versioni ma soprattutto hanno messo in promozione anche già le nuove primavera euro 5 plus ok che fino al mese scorso non lo erano quindi qui abbiamo allora in casa fondamentalmente le abbiamo già un po' tutte è che se dovessi mettere le sposte ci vuole solo il negozio per i colori vespa comunque ci sono le versioni primavera base le primavera s che ti ricordi che a lake ma le guardavamo ci chiedevamo che cosa cambiava ok allora quest'anno dalla base alla s fondamentalmente cambiano solo i colori perché quella che vedevamo col cruscotto interamente digitale a colori ti ricordi sì al massimo quella che puoi connettere chiaramente anche quella è la versione te che però arriverà più avanti probabilmente da giugno luglio grosso modo anche lei dagli altri colori comunque partiamo le primavera normali primavera s questo mese se non vendo niente perché il video è venuto male esatto sì sì colpa mia colpa mia sprint quindi faro quadrato le sprint quest'anno hanno tutte queste colorazioni un po grintose un po accattivanti c'è così c'è anche il verde lo stesso che c'è sulla 300 insomma 300 euro dica chiede ai miei colleghi lì per cortesia è bello così è vero è negozio vero è la bottega di alice volevo farti vedere anche il vero il verde è quello lì il verde è quello scusa mi vieni da ridere ma è bellissimo ma io dico ma il 7 no oggi è l'8 maggio alle 9 e qualcosa di mattina ma tutto il mondo deve essere qua a me piace dunque va bene non ho capito che vantaggio c'è quanto l'immatricolazione quindi 300 euro di sconto dal prezzo di sito poi logico che ovviamente qualcosa aggiunge la kimoto di tutte queste ti faccio vedere solo queste due nello specifico che in realtà sono le ultime 2023 ok su queste anche loro avrebbero i 300 euro di promo ma lo dico già che qui la promo come minimo la raddoppiamo ecco perché sono proprio le ultimissime comunque i prezzi delle nuove vanno dai 500 5 2 a salire con poi le relative offerte però su vespa è veramente un mondo un po complesso di tanti allestimenti e versioni quindi un saltino sì un salto se dal sito capite qualcosa poi mi dite quelle che mi piace se non mi chiamate mi spiego va bene e la 300 idea ma anche loro con la promo quindi da meno di 7000 in avanti si portano via tutte le versioni 300 ok ok buono poi proseguiamo con vabbè gli elettrici che tu adori io l'elettrico per me non ci sono abbiamo la vespa ecco questa vespa è il queste qui con cerchetti azzurri azzurri usciranno diciamo di produzione ne abbiamo ancora una su questa oltre l'incentivo facciamo qualcosina il piaggio one poi abbiamo anche l'onda elettrico vabbè non si potrebbe dire un chilometro in zero per quello ce l'ho qua ok mp3 è tornata una promo che mancava da un tempo di 500 euro di sconto dal prezzo di mistilo che poi in realtà io la facevo lo stesso ma questo è un dettaglio perché su questi 500 i 300 e 400 e 530 hanno 500 euro di promo poi ovviamente una limatina una carezza si può fare beverly 300 e 400 qui stiamo andando fortissimo perché c'è una promo che va dai 500 ai 700 euro a seconda del colore ok più finanziamento a tasso zero fino a tre anni da due a tre anni è veramente se tu fai i conti dici vabbè non capisco perché facciamo però è così spingendo forte ma non perché debba che ne sto a uscire una nuova no no è proprio così semplicemente ci sono dei colori che andranno in aggiornamento e verranno sostituiti ma tecnicamente il veicolo rimane lo stesso quindi ad esempio questi che tu vedi sono tutti colori che non cambieranno toglieranno quelli con la sella marrone per intenderci che piacevano un po meno va bene quindi abbiamo in casa questi più su in arrivo dei nuovi colori più qualcosa ancora di sella marrone un po più scontato è rimasto però 500 euro di sconti quelli con la sella marrone ne hanno 700 in pratica ti porti via un beverly 300 a 48 49 più la tarda direi non male il tasso zero meddoli 125 150 400 euro di promo dal listino ok poi qui c'è un usato un chilometro di zero si è intrufulato per passare su è un 125 prove 2450 più la tarda cosa compri niente un usato con i soldi lì e poi finiamo possiamo far vedere questi che non c'entrano assolutamente sì questi sono i nuovi cavallero 2024 rally deluxe questo è il 100 poi su vabbè c'è anche lo scrumbre ok abbiamo finiamo con gli scooter mi sono di lungata aprilie lsr 125 200 anche lui con 400 euro di promozione e il liberty a seguire con 400 euro di promozione traducendo liberty 125 viene 2 6 più la tarda ci siamo capiti ci siamo capiti ecco la mamma giusto ma qui ragazzi lavorate e non è chi si è liberato dai 2 e 6 lsr dai 3 e 6 anche questo bel prodotto con questo sconto di promo diciamo che viene fuori i meddoli anche loro partono dai 3 e 4 sono addirittura 3 e 3 adesso poi mille prezzi comunque obiettivamente ci sono delle buone offerte sarà che il tempo finora non è stato del tanto dalla nostra parte allora cerchiamo un po di invogliare la gente anche se piove a comprare lo scooter per cui moto o scooter per le moto vedete l'altro video alice riferimento come sempre c'è il sovraimpressione no metto il numero di una sì quello dell'altro metto il numero di una ls lunga di solito io perché se serve no capito fai la spesa a casa l'importante è che ci sia un numero da chiamare ma chi risponde non è un problema tanto poi ve la passano va bene ciao alice ciao